Io sono portatore di un'identità. In questa identità c'è la diversità, c'è il senso della provvisorietà. 500 ragazzi di 11 scuole napoletane nell'auditorium della porta del parco di Bagnoli hanno assistito alla proiezione del cartone animato La Stella di Andra e Tati, ispirato alla vera storia delle sorelle Bucci di 4 e 6 anni che nel 1944 furono deportate ad Auschwitz. Abbiamo raccolto tante scuole, quindi abbiamo dovuto organizzare la mattinata in due turni, molta attenzione, molta partecipazione e quindi sono contenta. L'iniziativa del comune di Napoli è legata alla celebrazione del giorno della memoria. Se il senso della memoria è quello di ricordare ritualmente con grandi squilli di trombe gli ebrei morti e disprezzare gli ebrei vivi, allora non c'è nessun senso. Se invece noi vogliamo oggi ricordare sempre e comunque l'odiosità delle autarchie e vogliamo ricordare dall'altra parte la bellezza estrema delle differenze, la bellezza del mondo sono le sue differenze, allora la memoria ha un senso. Abbiamo voluto invitare le scuole di Napoli a visionare un cartone animato che racconta una storia vera, la storia delle sorelle Bucci e di Sergio Di Simone, la loro esperienza nel campo di concentramento, quello che hanno sofferto e quanto sia importante attraverso questo documentario rinnovare il ricordo anche in memoria delle persone che non ce l'hanno fatta, che non ci sono più.